Che cosa si intende per dolore muscolo scheletrico e quanto è diffuso? Per dolore muscolo scheletrico si intende un dolore molto spesso cronico che è localizzato alle ossa, alle articolazioni, ai muscoli, ai tendini e ai legamenti. Sono dolori molto frequenti sia quando insorgono acutamente dopo un trauma ma soprattutto sono dolori cronici per esempio quelli da artrosi o da molte patologie che coinvolgono questo sistema con l'invecchiamento. La prevalenza maggiore di queste malattie ovviamente quindi a carico dell'età anziana quindi dopo i 50 anni sono dolori molto frequenti soprattutto quelli articolari da artrosi mentre nei più giovani anche sono presenti ma sono dovuti molto più spesso a fatti traumatici o a ernia del disco per esempio. Il mal di schiena purtroppo colpisce tutti. Quali sono le cattive abitudini che lo provocano e peggiorano le condizioni di chi ne soffre? Beh le cattive abitudini sicuramente provocano un incremento del rischio di avere un dolore cronico alla colonna vertebrale. Oltre a queste cattive abitudini includono ovviamente una nutrizione scadente quindi un ingrassamento, la mancanza di un'attività fisica adeguata, una vita sedentaria, posture viziate. Per esempio sicuramente in questo momento io sono seduto e mi vedete seduto in una poltrona una postura viziata perché sono in leggera flessione della colonna, dovrei essere invece in questo modo ma quindi è una postura che normalmente noi non teniamo e questo è un errore che mi incrementa il rischio di avere una lombalgia. Oggi si lavora tanto al pc, quanto tempo bisognerebbe passare seduti, in piedi, alternare? Beh si lavora molto al pc ed è un fatto negativo. Innanzitutto bisogna assumere delle posture corrette e la prima cosa da fare per prevenire e per attuare queste posture corrette è modificare la posizione per esempio dello schermo in modo tale che la colonna stia più dritta e quindi anche la colonna cervicale guardi l'orizzonte in una posizione migliore. Ovvio che continuamente dovremmo cambiare, si dice tecnicamente che almeno ogni mezz'ora ci dovremmo alzare, fare un giro, camminare e modificare la postura. Un'altra cosa che dovremmo fare è per esempio porre i due arti, se stiamo in piedi in una maniera prolungata, se penso alla donna che stiri per esempio, dovrebbe avere un piede più in alto, su una pedana di 15 cm più in alto rispetto all'altro, in questo modo riesce a stabilizzare meglio la colonna e la sua colonna ha meno rischi di andare incontro a situazioni di dolore cronico, di lombalgia cronica. Che cas'è l'algodistrofia e quanto è diffusa? L'algodistrofia è una malattia dolorosa, cronica, molto grave e molto severa, cioè il dolore ha delle caratteristiche di severità tali che alcuni pazienti lo includono tra la forma più grave di dolore che hanno sofferto nella loro vita, pari e superiore al dolore da parto secondo alcune donne. Le cause sono sconosciute, oggi riconosciamo alcuni fattori di rischio, sicuramente all'avere avuto una lesione traumatica, una frattura del polso, perché il polso e la mano sono sicuramente la sede più colpita da questa patologia, diceva aver avuto una frattura del polso, avete avuto una lesione traumatica del polso è una condizione fortemente predisponente a che poi succeda l'algodistrofia. Questa è una patologia caratterizzata appunto dopo uno o due mesi dalla guarigione teorica della frattura, la mano incomincia ad avere un dolore molto spiccato, si gonfia, c'è una sudorazione eccessiva, ci sono una variazione della temperatura del polso e della mano, questo insieme di sintomi che colpiscono quindi l'osso, la cute, il sottocute, il grasso della estremità dell'arto superiore si chiama appunto algodistrofia, il termine definisce appunto una situazione di dolore con un'alterazione strutturale, una distrofia dei tessuti. È una malattia che di per sé è rara, però certamente oggi è sottovalutata da un punto di vista quantitativo, perché molto più spesso si va incontro a questa patologia che non viene diagnosticata. Si pensa che probabilmente una su tre, una su quattro donne con la frattura di polso, che purtroppo è una frattura, come dicevamo, abbastanza frequente, soprattutto dopo la menopausa, dicevo una su tre, uno su quattro di queste donne con la frattura di polso possono andare incontro ad una algodistrofia.